Siamo al liceo classico di Iesi dove si sta svolgendo uno dei tanti incontri del Linux Day che è stato organizzato dalla Lug di Iesi. Gli altri appuntamenti sono sia all'ITIS che allo scientifico. Con noi abbiamo uno dei relatori che ha da poco terminato il suo intervento, il signor Massimo Gerardi. Innanzitutto ci puoi spiegare che cos'è il Linux Day? Il Linux Day è qualcosa che riunisce delle persone che amano il software libero, che vogliono farlo conoscere agli altri. È in sostanza una riunione tra giovani amanti del software libero che vogliono presentare a tutti questo modo di pensare. Forse è un modo anche di pensare, è un modo di vedere il software in modo diverso, fuori dall'anima commerciale, è chiaro. E quindi è una riunione tra persone che vogliono collocare fra di loro e presentare e far conoscere il software libero. Lei in particolare ha portato una relazione sul gestionale open source. Sì, appunto. Il gestionale open source è qualcosa riferito non più al singolo privato, al ragazzo, ma a un'azienda. Quindi si vuole portare il software libero all'interno di un'azienda proprio per aiutarla a risolvere i problemi che sono normalmente legati ai prodotti commerciali, cioè le personalizzazioni e soprattutto rendere libero anche le aziende a utilizzare un prodotto che oggi decido di non chiamare più quella ditta, chiamo un'altra ditta, posso rivolgermi perché ho il sorgente all'interno del mio programma. Scegliere il Linux che cosa significa? Scegliere il Linux significa innanzitutto avere la libertà di scelta, avere la possibilità di sapere che cosa ho installato nel mio computer e soprattutto avere la possibilità di gestirmelo e personalizzarmelo. Ecco, questo è il concetto.